Le email, le previsioni per oggi, Facebook, Whatsapp, Instagram e ancora le email prima di dormire. Controlliamo tutto, ma chi pensa di controllare le sue finestre? Le vostre vecchie finestre sono ancora isolanti, silenziose, sicure e belle. Scopritelo ora con il check-up Finstral delle finestre. Richiedete il vostro kit alla Poli Edil, al Bargellino in via Bizzarri 21 e a Bologna in via Rivani 99. www.poliedil.it Poli Edil, il meglio delle porte e finestre a Bologna.